un caro saluto a tutti amici ed amiche ci ritroviamo insieme per parlare di profezie e di storia certo è sempre un rischio applicare delle profezie a una storia che magari a noi pare un addempimento profetico ma così non è e noi non faremo questo errore parleremo di profezie bibliche di profezie laiche e cercheremo di capire come si possono inserire nella storia senza forzamenti senza dover trarre delle conclusioni soltanto dare dei flash e il titolo è un po' emblematico perché appunto ha messo insieme diverse ambiti diverse figure come quella di papa francesco la madonna di fatima e la russia cosa c'entrano questi tre elementi insieme lo vedremo in man mano che andiamo avanti vorrei però cominciare con un fatto positivo mentre passeggiavo ho visto una scuola dell'infanzia grazie a maria de ledda sulla casilina cioè qui vicino casa mia a roma e mi sono meravigliato del fatto che il muro di cinta della scuola l'inferiata del muro di cinta era tappezzata di lavori fatti dai bambini ed erano solamente delle bandiere c'era la bandiera della pace c'era la bandiera ucraina e c'era la bandiera russa avrei voluto entrare per complimentarmi con queste maestre ma purtroppo in quel momento la scuola era chiusa ma tornerò senz'altro perché queste maestre hanno insegnato ai loro allievi ai bambini a rispettare chiunque è la guerra che divide ma noi siamo fatti per amarci per essere popoli uniti siamo fatti per amare gli ucraini e anche i russi solo che la propaganda purtroppo in questo momento storico ci sta dividendo ancora una volta e in un'altra scuola invece ho saputo una notizia di bambini russi che sono stati immobbizzati ostracizzati dai loro compagni perché perché probabilmente in televisione vedono continuamente immagini che colpevolizzano ora l'uno ora l'altro contendente ma in europa si è scelto di colpevolizzare soprattutto putin noi vedremo se l'europa ha avuto ragione o no ma non prenderemo parte assolutamente né per l'ucraina né per la russia e per questo ci viene incontro la storia ma non le informazioni che passano nei nostri telegiornali assolutamente e neppure quelle chiamiamole così di controinformazioni a volte sono gli stessi media camuffati che gettano soltanto benzina sul fuoco e allora come fare bisogna avere pazienza bisogna capire bisogna studiare soprattutto studiare la storia lontana di questi due paesi dell'ucraina e della russia perché si è giunti a questo conflitto era stato annunciato purtroppo da tempo e le informazioni che passano nelle nostre televisioni non informano marco travaglio in un momento televisivo nel quale era ospite fisso ha messo l'accento proprio sulla disinformazione parlando per esempio di quel teatro ucraino che secondo fonti diciamo che sembravano accreditate sarebbe stato fatto esplodere dai russi combinando una carneficina ebbene non era assolutamente vero non è mai stato vero perché i russi hanno fatto sgombrare l'edificio e poi hanno fatto quello che volevano c'è stato un solo morto non le centinaia e centinaia che avevano veicolato diciamo i mezzi di comunicazione poi sempre travaglio parlava per esempio dell'attacco alla famosa centrale nucleare nei primi giorni di guerra no insomma tutti i media preoccupati ecco putin bombarda i centri atomici e quindi l'europa è in pericolo andiamo in farmacia a comprare questo elemento quest'altro elemento prepariamoci perché verranno nuvole di di atomi no ma pensate che i russi siano così stupidi possiamo anche insomma pensare che possono aver avuto torto no ma in questa guerra ma pensate che siano veramente stupidi da bombardare un reattore nucleare una centrale nucleare sapendo che hanno avuto problemi prima con chernobyl e poi se avessero fatto questi primi a morire sarebbero stati i loro soldati insomma ecco cerchiamo di essere seri poi si è scoperto che quel famoso botto che ha illuminato il cielo nero dell'ucraina nella centrale nucleare erano solamente dei bengala che russi avevano lanciato per fare luce su questo teatro di guerra ma non c'è stato nessun problema così come media italiani e non solo italiani hanno rilevato e poi le armi sempre travaglio diceva noi stiamo dando armi a chi agli ucraini per difendersi dai russi non è vero perché lì stanno combattendo gruppi di mercenari cioè al soldo di chi li paga di più e useranno le armi oggi a favore degli ucraini contro i russi domani non si sa se pagano di più i russi ammesso che lo facciano quelle stesse armi che noi stiamo dando a questi signori le useranno contro gli ucraini che invece prima difendevano e forse addirittura contro l'europa e contro gli italiani perché sono mercenari sono pagati e se un giorno si richiedesse loro le armi perché magari ci sarà un armistizio la pace pensate che ridiano le armi no le useranno in altri teatri di guerra ecco attenzione allora le false informazioni attenzione allora io mi sono andato a studiare autori sia di destra che di sinistra autori che sostengono l'ucraina e autori che sostengono la russia e ne ho capite delle belle insomma soprattutto come dicevo prima per le radici storiche di questo conflitto e giulietto chiesa nel libro putin fobia dice questo è un tempo speciale ci si rende conto che sta accadendo qualcosa di importante di nuovo di epocale appunto e poi aggiunge non disponiamo di strumenti concettuali adeguati a prevedere a fronteggiare ciò che sta accadendo e di cui già si vedono i segni all'orizzonte e quindi insomma lui già prevedeva qualcosa era il 2016 quando ha scritto questo libro sempre nel libro in un altro contesto scrive eppure c'è qualcosa che percepiamo sotto pelle e in questo diciamo caso è più che un brivido passeggero è la sensazione che si stiano preparando avvenimenti radicali di quelli che possono lasciare il segno per generazioni e forse addirittura per sempre era il 2016 e quindi sei anni dopo scoppiava scoppiava il conflitto russo ucraino e giulietto chiesa non ha mai fatto mistero delle sue preoccupazioni secondo me anche esagerate a volte ma lui aveva sempre preconizzato una terza guerra mondiale addirittura una guerra nucleare speriamo che abbia avuto torto una volta ogni tanto no ma intanto aveva previsto l'inasprimento dello scontro tra ucraini e russi allora la storia citiamo la storia io citerò due imparziali diciamo mascherati comunque autori uno mi sembra che sia più filo russo l'altro più filo ucraino ma sono molto molto attendibili per esempio iuri colombo laureato in scienze politiche storia russa san pietroburgo esperto di politica russa e dei paesi sovietici dice in suo bellissimo libro intitolato svoboda che tra l'altro è una parola comune sia agli ucraini e ai russi e vuol dire libertà quindi figuratevi condividono parte della lingua ma anche parte della loro storia eppure si stanno scannando e allora dice questo autore interessantissimo ripeto iuri colombo una cosa molto interessante prima di parlare dei problemi attuali dobbiamo per forza di cose analizzare l'oggetto dei del contendere e almeno una parte della sua complessa storia onde capire la posta in gioco per i vari attori geopolitici e l'origine delle problematiche odierne cioè insomma non possiamo prendere posizione solamente perché i media dicono viva la russia o viva l'ucraina dobbiamo studiare bene il problema altrimenti vediamo fagocitati dalla falsa informazione e voi lo sapete l'ho già detto più volte in guerra la prima a soccombere e la verità e oggi si combatte in guerra non solo con i missili con le armi concrete ma con le armi della propaganda è sempre stato così dice appunto iuri che l'ucraina è sempre stata una terra fertilissima no è stata definita il granaio del mondo è sempre stata una mescolanza di etnie che finché esisteva l'unione sovietica si rimaste sempre come dicevo nel incontro precedente insomma in armonia e d'accordo quando l'occidente ha incominciato a separare le etnie e allora sono arrivate i guai c'è un altro autore questa volta mi pare più filo ucraino anche se molto attendibile fabio bozzo direttore editoriale della rivista storia e verità ha scritto un libricino brevissimo ma sintetico per capire le ragioni del conflitto e il titolo è ucraina in fiamme le radici di una crisi annunciata anche lui dice non è che scoppiata all'improvviso la guerra russa ucraina no era annunciata da tempo giuglietto chiesa lo diceva sei anni prima e ha continuato a dirlo fino al giorno in cui è morto e questo autore bozzo dice una cosa molto interessante qui vorrei fare un breve inciso attenzione quando parlate di russia non fate l'errore di scambiarla con l'unione sovietica come dice certa propaganda biden appena è stato eletto presidente ha subito in mandato all'indirizzo di putin una parolaccia è un dittatore adesso aggiunto anche criminale o cose di questo genere ma insomma noi vogliamo credere a biden o alla storia allora c'è stata l'unione sovietica in cui purtroppo stalin ed altri hanno tartassato la l'ucraina insomma no con politiche agrarie economiche sballatissime infatti poi l'unione sovietica si è dissolta nel 91 ma gli ucraini hanno pagato caro lo scotto di queste politiche sbagliate dell'unione sovietica ma poi c'è stato gorbaciov e quindi anche putin quindi non facciamo l'errore di scambiare l'unione sovietica con la russia anche se gli ucraini ed altre regioni del continente asiatico dell'ex unione sovietica stanno pagando ancora oggi lo scotto di quelle politiche sbagliate ma non hanno sbagliato solo i sovietici hanno sbagliato anche gli occidentali e per quanto riguarda le bugie di guerra quindi sappiamo che gli ucraini hanno il avvelenato contro quella che era l'unione sovietica no poi abbiamo visto e lo dice anche bozzo in maniera onesta ma sì è vero che i sovietici hanno fatto dei torti agli ucraini ma gli ucraini in un momento della seconda guerra mondiale hanno fatto anche loro uno sbaglio praticamente sono diventati in parte nazisti almeno le truppe sono diventate naziste quindi abbiamo avuto sempre uno scontro tra nazismo e comunismo poi quando l'ucraina ha deciso di diventare occidentale allora anche l'occidente ha ammorbidito i toni contro l'ucraina no ma non li ha ammorbiditi contro putin e io ripeto non voglio prendere difese di nessuno ma la storia ci sta dicendo questo e lo esamineremo puntata dopo puntata giulietto chiesa ancora dici che l'occidente è in crisi è in crisi noi lo sappiamo lo vedremo ancora più avanti per quale motivo l'occidente è in crisi soprattutto gli stati uniti d'america e quindi questa frase lapidaria di giulietto chiesa ci fa capire come andrà l'andazzo delle cose questo occidente in crisi per sperare di cavarsela pensa di dover liquidare in primo luogo la russia e infatti è demonizzata dall'occidente la russia cosa c'entra tutto questo dicevo con la profezia di fatima e con papa francesco il 25 marzo papa francesco consacra russia e ucraina al cuore immacolato di maria che è la madonna apparsa appunto a fatima e questa celebrazione avviene anche in contemporanea con un cardinale il cardinale kraizinski che sarà a fatima alle 17 mentre francesco sarà nella basilica di san pietro e consacreranno il mondo e l'ucraina quindi e la russia alla madonna di fatima ecco io non vorrei scandalizzare i miei fratelli cattolici io sono stato cattolico anch'io avevo simpatie per la madonna poi ho scoperto la maria del vangelo che era tutt'altra cosa infatti per la madonna di fatima ci sono parole aspre perfino da uno dei più rinomati teologi cattolici hans kung il quale ha scritto fatima è una mistificazione quindi senza mezzi termini ho negli archivi qui a tubinga molto materiale su fatima se mi fanno arrabbiare pubblico tutto e dico quello che so io spero che lo facciano arrabbiare così almeno sappiamo anche noi che cos'è di mistificato nelle apparizioni di fatima ebbene fatima è diventata con giovanni paolo secondo e anche con benedetto xvi un messaggio per il futuro oltre il 2000 quindi è un messaggio per oggi ecco perché papa francesco recupera questo messaggio e cerca di convincere i contendenti ucraini e russi vedremo se ce la farà lasciamo alla storia dirci qualcosa perché la profezia sta andando in quel senso ora non posso dire molto proprio per non creare problemi ma vedremo come la profezia sta andando in quel senso ebbene a fatima la presunta madonna avrebbe dato a tre pastorelli francesco giacinta e lucia dei messaggi ci sono state sette apparizioni la prima è iniziata il 13 maggio del 1917 l'ultima si è avuta il 13 ottobre del 1917 qual era il contenuto di questi messaggi ecco proprio il contenuto dei messaggi è stato criticato probabilmente non soltanto da hans kung se egli non addirittura critica il fenomeno stesso ma i messaggi sono stati criticati da un altro grande e valente studioso edmond pari questa volta nel campo protestante e anche lui parla delle apparizioni di fatima come aventi dei lati oscuri e uno di questi è che lucia ha preso i voti e poi dice è dal profondo del suo convento ha preso i voti dopo le apparizioni logicamente quindi è stata rinchiusa in convento ed è lì che l'ha completato a più riprese su richiesta dei superiori tutte le diciamo gli scritti sulle profezie avute dalla madonna i messaggi avuti dalla madonna nel 1917 però questi ricordi dice edmond pari si adattano purtroppo come per combinazione alla situazione internazionale del momento in cui essa li redigeva come se qualcuno facesse una regia occulta non so se imboccasse lucia ma non credo lucia ha detto la verità quindi allora la madonna ha fatto politica internazionale ma qui arrivano i primi problemi perché dal 1917 lucia ha cominciato a pubblicare questi avvertimenti queste profezie tra il 1936 e il 1942 sempre sotto la direzione dei superiori qui edmond pari incomincia a vedere una delle prime zone d'ombra per esempio nella seconda apparizione che si è avuta il 13 giugno 1917 la madonna avrebbe annunciato la morte di giacinta e di francesco uccisi comunque francesco nel 1919 e giacinta nel 1920 dalla spagnola questo si suppone questo era il piccolo segreto di fatima ora se tu annunci la morte prima della morte posso credere che sia un profeta ma se tu dici dopo sette anni che la madonna aveva previsto la morte tu non hai documenti attendibili è una profezia post datata e infatti è solamente nel 1927 poi nel 42 che lucia dirà la madonna mi aveva preannunciato la morte dei pastorelli questo sono capaci di farlo anch'io con tutto il rispetto per chi crede a fatima logicamente e poi nel corso della terza apparizione avvenuta il 13 luglio del 1917 la madonna dovrebbe aver dato dei consigli dei dettagli di politica internazionale ecco che cosa dice dalle memorie di lucia logicamente io ho tutti i libri cattolici a casa e quindi mi vado a informare sulle fonti originali la madonna avrebbe detto la guerra quindi la prima guerra mondiale va verso la fine eravamo nel luglio del 1917 ma se non si smetterà di offendere il signore sotto il regno di pio undicesimo ne comincerà un'altra peggiore quindi la madonna avrebbe annunciato anche la seconda guerra mondiale ma la seconda guerra mondiale avremmo potuta scamparla se si fosse dato retta proprio alla profezia di fatima qual era la profezia e l'avvertimento per impedire questa seconda guerra mondiale verrò dice la madonna a chiedere la consacrazione della russia ecco che entra in campo la russia al mio cuore immacolato se daranno ascolto alle mie richieste la russia si convertirà e ci sarà pace altrimenti diffonderà nel mondo i suoi errori quindi se tu nel 1917 mentre era in corso la rivoluzione bolshevica poi vedremo quali forze occulte hanno prodotto anche la rivoluzione bolshevica insomma no perché non è così semplice la storia ma i documenti ci sono e allora se tu avessi detto nel 1917 pregate consacrate la russia perché se no non ci può essere la pace allora avremmo pregato chissà forse la russia si sarebbe convertita invece no ma perché non si è convertita se seguiamo il discorso mariano perché questa profezia e quindi anche questo avvertimento che sarebbe stato dato nel 1917 è stato fatto conoscere soltanto nel 1942 quando ormai c'era la seconda guerra mondiale e la russia era diventata una potenza atea quindi allora come mai non avete avvertito prima che succedessero queste cose ossia la seconda guerra mondiale la rivoluzione sovietica per scongiurarle la profezia diceva pregate per scongiurarle ora se tu le fai conoscere dopo che gli avvenimenti sono avvenuti è una profezia farlocca scusatemi il termine infatti ed mon pari ha chiusato quale avvertimento hanno potuto ascoltare i peccatori si è stata pubblicata solo dopo che si è stato pubblicato solo dopo che gli avvenimenti che dovevano essere scongiurati quindi la guerra e la russia atea erano ormai alle spalle ora anche diciamo un altro studioso lo vedremo di parte cattolica si è chiesto qualcosa ma torniamo un attimo per concludere con ed mon pari ha una sua affermazione molto interessante dice questo pregate perché si convertirà la russia si deve convertire la russia e si deve scongiurare la seconda guerra mondiale sarebbe il grande avvertimento mariano di fatima e quindi paris dice singolare avvertimento che attende che il male sia fatto per esprimersi e anche il cattolico michel agnole come avevo già annunciato dirà questo testo quindi questa profezia che perde evidentemente un po del suo valore profetico dall'istante in cui comunicato nel 1917 fu pubblicato soltanto nel 1942 eccetera eccetera anche lui se ne è accorto no se ne è accorto anche lui allora perché è stato pubblicato nel 42 per un semplice motivo anche qui per convenienza politica allora non è la madonna che ha fatto delle profezie ve le siete aggiustate forse e le avete tirate fuori nel momento politico adatto perché se è una profezia la dovete far conoscere prima così sappiamo che è una profezia perché gli avvenimenti che aveva profetizzato sono avvenuti invece no prima avvengono gli avvenimenti poi si dice ah ma l'aveva detto la madonna e no è troppo poco e non è certamente divina la cosa pio dodicesimo nel 1942 chiede appunto la consacrazione della russia ed è il momento preciso in cui l'armata nazista di hitler subiva disastri proprio in russia e cercava di riprendere l'offensiva nello stesso momento sempre la chiesa cattolica con nella voce del cardinale baudirà a parigi lanciava degli appelli per reclutare dei volontari che andassero in soccorso ai nazisti e noi vedremo che è successo proprio la stessa cosa in ucraina ecco perché bisogna studiare la storia e anche la profezia magari forse falsa ma comunque è una profezia che si adatta alla storia o che viene fatta adattare alla storia il che non crea molta attendibilità nel tren il 30 luglio del 1942 sempre baudirà dice la guerra di hitler è una nobile impresa per la difesa della cultura cattolica europea poco prima nel 39 monsignor tiso quindi un altro monsignore aveva detto il cattolicesimo e il nazismo hanno molti punti in comune ed essi operano mano nella mano per riformare il mondo io posso pensare che insomma dal punto di vista cattolico si abbia ragione a combattere l'atteismo no ma tirare fuori una profezia al momento storico in cui questa profezia diventa una bomba politica non mi sembra corretto dio non ha mai fatto così nella bibbia le profezie sono state date molto tempo prima e gesù diceva io vi dico questo oggi perché quando accadrà voi saprete che io l'ho detto insomma quindi è una profezia fatta in anticipo non come quella di fatima che sarebbe stata fatta nel 17 quindi non è annunciata prima degli eventi che conteneva come ammonimento e quindi non è una profezia valida è una profezia post datata tirata fuori quando ce n'era bisogno ed ecco dice ancora edmond pari ne recupero un'altra di citazione ecco come una profezia che il mondo non conosceva poté tornare utile anche con 25 anni di ritardo lo stesso discorso si potrebbe fare con il terzo se credo di fatima ma non ne abbiamo adesso il tempo vedremo più avanti andiamo verso la conclusione con un altro lato oscuro delle apparizioni di fatima un altro canonico quindi cattolico formigao fece un'intervista diciamo così a un interrogatorio a lucia per sapere di più su queste apparizioni e la sera dell'ultima apparizione quella del 13 ottobre 1917 formigao andò da lucia e le chiese dimmi che cosa ti ha detto la madonna insomma su questa guerra e lucia risponde la guerra finirà oggi quindi finisce il 13 ottobre 1917 possiamo attendere i nostri soldati molto presto trovate queste definizioni in tutti i libri cattolici sei giorni dopo visto che la guerra non era finita quindi il 19 ottobre formigao tornò da lucia con un'altra domanda ma tu hai detto che il 13 corrente nostra signora ti ha riferito che la guerra sarebbe finita il giorno stesso cioè il 13 come mai noi siamo al 19 e la guerra continua no e quindi lucia un po imbarazzata risponde ecco quello che ha detto la guerra finisce oggi e che possiamo attendere i nostri soldati anche formigao che non si è lasciato turlupinare aggiunge ma io riscontro che la guerra si protrae i giornali notificano che ci sono stati combattimenti dopo il 13 come si può spiegare ciò lucia imbarazzata sempre di più risponde semplicemente io non lo so io ho ripetuto le parole di nostra signora ma chi mente qua lucia la madonna coloro che hanno fatto saltare fuori le profezie con l'orologio quando era necessario farle esplodere nel mondo politico nello scenario internazionale chi ha mentito perché qui c'è una menzogna perché infatti la guerra non finì come aveva detto la madonna le cui parole sono state ripetute da lucia non finì il 13 ottobre del 1917 ci fu un armistizio senz'altro ma esattamente un anno dopo l'11 novembre 1918 qualcuno non ha detto la verità ed ecco che francesco richiama ancora una volta la figura e le profezie della madonna di fatima per cercare di mettere d'accordo ucraini e russi se ci riesce c'è un colpaccio enorme e se ci riesce allora dobbiamo indagare ancora di più per quale motivo un evento sovrannaturale ha così tanta forza da dirigere i destini del mondo a meno che gli stessi contendenti non siano in qualche modo anche d'accordo a certi piani a certi livelli in certi piani ebbene concludo con una diciamo di un fatto storico che è poco conosciuto ma io l'ho letto e vi posso garantire che è vero esiste una quarta leggente oltre a lucia giacinta e francesco ed è caterina e una volta un giornalista è andata a trovarla e ha chiesto ma come mai lei non ha mai detto niente sui segreti di fatima e lei ha risposto non mi hanno mai interrogato cioè l'hanno messa da parte per quale motivo e qui le cose si fanno complicate perché sembra che questa anzi non sembra lei lo ha dichiarato questa quarta leggente caterina non abbia proprio per niente visto la madonna ma un essere angelico che molti hanno pensato essere addirittura un extraterrestre bene le cose si stanno complicando e sembrano quasi rassentare la fantascienza se volete saperne di più chiariremo meglio nel corso dei nostri incontri se non il prossimo nei prossimi senz'altro questa ingarbugliata matassa perché come vedete apparizioni mariane apparizioni ufologiche quindi discesa del cielo sulla terra ammesso che sia il cielo vero hanno a che fare con gli intrighi della politica e delle nazioni e potrebbero anche dirigere dirigere il corso degli eventi e in qualche modo la bibbia ci fa capire che le cose andranno proprio così grazie per l'ascolto un caro saluto a risentirci